Dopo il focolaio nella casa di riposo Villa Cittarius e il numero di casi positivi al Covid registrati a San Valentino venerdì e sabato prossimi, ci sarà uno screening di massa. Si partirà dagli studenti, dalle loro famiglie e dal personale scolastico. Il vice sindaco di San Valentino in Abruzzo Citeriore, Lino Sciambra, parla di 49 casi in paese, compresi quelli nella casa di riposo Villa Cittarius. Sono 33 i positivi al Covid nella struttura, 26 ospiti e 7 operatori sanitari e ieri è deceduta una paziente di 94 anni per cause però ufficialmente ancora da accertare. Al momento è invariato il numero dei residenti che hanno contratto il virus, 16. Il sindaco di San Valentino, Antonio D'Angelo, ha chiuso le scuole e l'amministrazione comunale di concerto con ASL Regione ha fissato per il prossimo fine settimana uno screening di massa attraverso i tamponi rapidi. Circa mille sono quelli al momento a disposizione che verranno effettuati in primis sugli studenti delle elementari e medie, sul personale docente e non docente, sulle famiglie degli alunni non solo del paese ma anche dei centri vicini che frequentano gli istituti di San Valentino, da Abbateggio e Roccamuricio in particolare, per poi passare agli altri residenti. Un centinaio di abitanti di San Valentino in quarantena volontaria su una popolazione che non arriva a 1900 persone. Il sindaco e il vice sindaco chiedono alla popolazione lì dove sia possibile di restare a casa. L'ordinanza di chiusura delle scuole vigila almeno fino a domenica, quando si esaurirà lo screening che sarà attuato, probabilmente nella sede dell'istituto comprensivo, riferisce il vice sindaco Sciambra. Solo con l'acquisizione dei dati con i tamponi antigenici, il sindaco deciderà il da farsi. Intanto si sta già pensando di chiedere alla regione e agli enti interessati di istituire una sede in paese per i vaccini. Sciambra ricorda che il primo cittadino d'Angelo ha emesso un'ordinanza di divieto di assembramenti e ha ribadito la possibilità di uscire solo ed esclusivamente per necessità, lavoro o salute. Intanto è stata attivata l'unità speciale di continuità assistenziale, USCA, che interverrà due volte a settimana per tenere sotto controllo la popolazione e gestire la sorveglianza dei malati covid in isolamento domiciliare. L'amministrazione ha inoltre attivato il COC, il centro operativo comunale e in campo c'è anche la protezione civile.